la pulia cominciò a mostrarmi i noti monti che scirocco avvampa così scriveva orazio nella quinta satira all'ingresso da regione più pianeggiante dell'impero e quando beffato da una giovane che gli ha promesso una notte d'amore riprende il viaggio e giunge in un borgo il cui nome dentro il verso non entra si meraviglia che l'acqua la cosa più comune qui la vendono la puglia siticulosa era l'impero del sole il simbolo di federico secondo la cui vita è però legata profeticamente non al sole ma ad un fiore sub flore infatti egli avrebbe perso la vita nel subappennino dauno a castelfiorentino e sub flore sarebbe caduto il suo impero nelle mani di carlo d'angio che viene sotto legida del giglio di francia poi tutto si fa tufo nella frastagliatura del barocco come dice vittorio bodini la luna dei borboni col suo viso sfregiato tornerà sulle case di tufo sui balconi sbigottiranno i gerani i gerani sono l'addobbo connotativo delle balconate meridionali magari intervallati da basilico e da piante grasse e fino a ieri nessuno avrebbe scommesso che da fiori più duraturi meno effimeri dei gerani potesse avere impulso l'economia di un paese il carattere generale di questa regione pugliese scriveva cento anni fa gustavo meier grasse nel resoconto di un suo viaggio in italia meridionale è la grande fertilità olio vino e grano sono i principali fattori della ricchezza del paese indi seguono per importanza le coltivazioni dei fichi dei mandorli del tabacco del cotone della canapa e del lino oggi canapa e lino sono scomparsi si era rifatta la coltura del cotone attraversiamo le campagne di ruvo molfette e terlizzi tra muretti a secco le vecchie macere che i contadini hanno costruito in epoca in cui il tempo non era denaro nei pomeriggi di afa dopo i lavori dei campi qua e là masserie fortificate arcigne a ricordo delle incursioni saracene di quelle brigantesche allarmi allarmi la campana sona i turchi sono sbarcati alla marina attorno a questi monumenti alle ville della ricca borghesia sette ottocentesca ora in sfacelo sono nate piccole case d'appoggio qui silenziose lì piene di vita rallegrate da un cane da una radiolina transistor dal trattore o da ragazzi che si rincorrono se non è ora di scuola gli olivi qui sono robusti e contorti giganti lignificati gli olivi sono fantasmi affollati oltre i lunghi filari delle viti così li ricorda ennio bonea e un poeta più giovane uno della generazione che ha vissuto il passaggio dalla civiltà rurale a quella industriale lino angiuli dice io e il sudore di mio padre siamo nati nel sud figli dell'arsura e di un ulivo e rafforza questo rapporto tra alberi e uomini ricordando che la sua vita si consuma con uomini muti che sembrano ulivi e ulivi che hanno lo stesso profilo del sangue nel nostro girovagare per campagne dunque appaiono alcune serre rudimentali una dozzina di pali sorreggono un rivestimento di plastica trasparente una capanna piantata nel cuore di un campo recintato il rivestimento di plastica è stato sollevato dal suolo in più punti come un tendaggio che deve permettere all'aria di filtrare o la banda di una tenda nel campo saraceno da dove sentirai a momenti la voce adirata dello sceicco sotto le plastiche ci sono i fiori un giardino di gambi fogliami colori sul margine opposto della strada si levano altri capanni e fiori di altre varietà con colori più sgargianti ma non ci fermiamo per molto procediamo spediti verso i terreni ciccolella da paolino che è un amico ha il primitivo in fresco e la risata a portata di labbra ed ecco i suoi cani cani che latrano per amicizia e per diffidenza e coi cani ecco uno dei figli di paolino che viene a farci strada è nato con gli omogenizzati questo figlio di paolino e la sua pelle non è più coriacea non è più screpolata dal sole e dalle intemperie come quella del padre che si porta sulle guance tutti i colori della campagna sotto la coppola agli occhi del contadino inurbato come oggi dipinge ginetto guerricchio inizia con lui con la sua risata di allegria festosa questo viaggio nel paradiso dei fiori pugliesi dei floricoltori nella storia di un'attività nata appena 15 anni or sono paolino ciccolella è nato contadino anzi ortolano con un piccolo appezzamento di terreno ereditato dal padre giusto un fazzoletto di terra in cui piantava cicorie finocchi cavolfiori e rape le rape qui sono d'obbligo perché vanno accompagnate alle orecchiette in tutte le case con un odore di acciuga soffritta e mezzo peperoncino il diavolicchio che tira il bicchiere all'orto ci si arriva con la bestia mulo o asino si lavora di zappa si tirano solchi per l'acqua che va versata a secchi ben centellinata dal pozzo artesiano non l'ha detto orazio che qui meraviglia l'acqua si vende poi prima di sera si carica la verdura tagliata e via al paese dal fruttivendolo che domani si sveglierà per tempo se vuol trovare acquirenti ai mercati generali di bari oppure da un ambulante che gira per ruvo andria moffetta barletta terlizzi gettando il richiamo tra le viuzze dei centri storici riempie dei suoi richiami le cattedrali bianche che vengano angeli donne e santi a comprare il prezzemolo insaporaminestre l'accio e il finocchio che decorano le tavole e il ravanello che accende i sensi una mattina però paulino si è alzato con un'idea impastata di poesia c'è un angolo dell'orto dove non riesce ad attecchire niente ci butterà qualche seme di crisantemo e se qualcosa nasce almeno c'è la provvista per novembre a tutti i morti e quando arriva novembre ecco che di fiori ne vengono tanti miracolo da un angolo così restio che farà di tutti questi fiori li lascerà morire sulle piante ce ne sono troppi ma no no li venderà al fioraio che ne faccia corone che addobbi chiese e cimiteri e a buon prezzo insomma paulino ora non azzardiamoci a chiamarlo più ortolano bisognerà dargli almeno del crisantemicoltore e per l'anno prossimo più terra e fiori che danno bei soldi e meno ai finocchi e alle rape che ne coltivano tutti e non hanno mercato intanto la famiglia cresce paulino all'aspirazione di tutti i contadini meridionali vedere i figli addottorati con tanto di diploma di laurea appeso al muro un'aspirazione antica di tutta una classe e li manda a scuola e più tardi all'università a bari vicenda antica questa dei figli dottori nel mezzogiorno i giovani erano costretti a seguire un corso di studi presso lo studio della capitale e una volta addottorati dovevano rientrare gli aristocratici avevano case a napoli e ville in provincia vivevano parte dell'anno nei divertimenti della capitale e parte in campagna tra sette ottocento cominciano ad accedere agli studi anche i rappresentanti di una classe intermedia che nel sud tarda a costituirsi i paesi si riempiono di giovani borghesi che professano medicina avvocatura notariato e che finalmente possono vivere da civili lontano dalla terra dalle vigne dai campi ereditati è nata da qui la convinzione che gli studi permettano l'affrancamento e il salto di classe sono nate da qui le rivolte del 1799 del 1820 del 1848 tutte fallite per lo scollamento esistente tra contadini e giovani intellettuali solo dopo la scolarizzazione di massa del secondo novecento la società medidionale si è incamminata sulla strada del recupero di alfabetizzazione e cultura e ha cancellato in poco tempo le cifre dell'analfabetismo terzo mondista che l'angosciavano oggi scrive gregorio scalia l'ombra di croce si stende sugli olivi la critica si attorciglia lungo i nodi degli alberi e l'eghelismo italiano scivola nella nebbiolina della sera l'ombra di croce probabilmente al tramonto con lo storicismo che l'accompagna è entrata nelle nostre campagne insieme a questi giovani e assistito al passaggio di un vento di trasformazione perché dedicarsi agli ortaggi si sono chiesti i figli di paolino se i fiori sono più proficui in una società di benessere i fiori sono un bisogno indotto ormai non trascurabile fiori per auguri felicitazioni funerali addobbi e anche se la chiesa ricorda che non fiori ma preghiere occorrono per le anime dei defunti continua pur sempre a chiamare la madre di dio rosa mistica e flos carmeli e ai ceri ormai in disuso sostituisce volentieri lussureggianti addobbi di gladioli garofani e verbene nel vecchio orto i figli dell'ortolano piantarono dunque dei pali di metallo li coprirono con un tendaggio di plastica ne fecero una serra rudimentale di qualche decina di metri quadri e sperimentarono un tipo di cultura protetta rose crisantemi e garofani ebbero in questo modo una crescita agevolata e al tempo della fioritura si vendettero senza difficoltà allora fu giocoforza allargare l'area della serra piantare ancora altri pali e scegliere tra le varietà floreali quelle di più facile mercato si abolì il crisantemo il cui utilizzo è legato a pochi giorni di novembre si privilegiarono i garofani e successivamente le rose fiori di ogni occasione e con loro margherite e settembrini fino alle piante da bulbo si piantò insomma tutto ciò che può contribuire a fare di un onomastico di un compleanno di un matrimonio un'occasione da evidenziare con i fiori d'altro canto una locuzione ormai di pubblico dominio non raccomanda se avete da dire qualcosa ditelo coi fiori eppure c'era da migliorare il rapporto con le piante che appariva passivo era necessario intervenire sulla regolazione del clima trasformarsi in soggetti attivi dominatori della natura regolare la temperatura elevandola in caso di geli o abbassandola nella fa estiva oppure stabilizzandola su valori costanti per un tempo più o meno lungo fu il rapporto con l'università di bari a offrire nozioni e consigli insegnò ai contadini pugliesi le regole della maturazione forzata e lo stravolgimento dei tempi di fioritura e di letargo di una pianta tutto questo ha dell'avveniristico perché descrive la fine di una civiltà arcaica in cui la cultura era legata al pungolo del bisogno primario la fame l'olografia meridionale ha da sempre ritratto i contadini armati di falci di ceste di aratri l'agricoltura dei nostri paesi sa i tempi dell'olivo del grano e della vite sai i tempi del tabacco nel beneventano e nel salento ma un contadino che coltiva fiori per vivere è un'immagine inconsueta esce fuori da tutte le iconografie si potrebbe dire che è una contraddizione non esiste proverbio che faccia riferimento alla cultura dei fiori nella civiltà orale del sud i fiori sono accostati alla bellezza femminile sono ornamento gioia vezzeggiamento delicatezza vederli all'improvviso accostati alle mani nodose e piene di crepe del contadino è come creare uno stridore uno stridore sul quale molti intellettuali amano giocare penso per esempio a chiodi e rose di tommaso di ciaula che accosta i sentimenti d'amore ai ritmi delle fresatrici per raccontare le difficoltà incontrate dalla sua generazione nel passaggio dall'aratro al tornio penso alle rose e i terremoti di ettore catalano che descrive dolcezze e violenze del temperamento mediterraneo ma la rosa fresca e aulentissima è immagine etopica d'altro canto da cielo d'alcamo a la rosa nel bicchiere di franco costabile ai rosai di qui di gerolamo comi un topos e che indica fragilità bellezza soggetta a sfarsi in un baleno e mistero avvolto già nel nome stat rosa pristina nomine nomina nuda tenamus come chiudeco il suo più fortunato romanzo fragilità dunque come è nei versi del poliziano e del magnifico trema la mammoletta verginella con occhi bassi onesta e vergognosa ma vie più lieta più ridente e bella ardisce aprire il senna al sol la rosa questa di verde gemma si incappella quella si mostra allo sportel vezzosa l'altra che in dolce foco ardea pur ora l'anguida cade e il bel pratello in fiora per ammodernare fu necessario smantellare le strutture e costruirne altre più solide più costose e più sofisticate tali che l'aria esterna non riuscisse ad influenzare infiltrandosi la temperatura interna si costruì insomma una serra in metallo e vetroresina e fu creata una rete di riscaldamento con tubi collegati ad una caldaia sistemata sotto una tettoia esterna alla serra mentre un impianto di irrigazione a getto percorreva la sommità della serra per l'effetto pioggia era veramente il mondo nuovo tuttavia i giovani ciccolella compresero che molte nozioni avrebbero dovuto ricavarle dall'esperienza diretta perché alle nuove metodologie occorre applicare una disciplina antica la sperimentazione a proprie spese capirono che non garofani ma rose dovevano coltivare il garofano è molto comune al sud sa riempire di colori gli ambienti sa durare ma ha il difetto di piegare la schiena e spezzarsi al primo vento e si vende a poco anche andremo verso le rose decisero i protagonisti di questa vicenda floreale padri e figli ai garofani venne destinata una serra modesta finché non sparve anche questa quando ci si rese conto che era dispendioso mantenere due diverse colture che chiedono ovviamente tempi diversi di lavoro il nome della rosa riempì ettari serre e conti dell'azienda ciccolella sorgevano a quel punto nuovi problemi questioni di mercato la regione non sembrava in grado di assorbire la produzione dei troppi contadini che avevano deciso di trasformare le proprie colture e dedicarsi alla floricoltura bisognava cercare nuove frontiere e soprattutto contenere i prezzi per risultare competitivi sia sul versante nazionale che su quello internazionale va detto a questo proposito che proprio l'ente regione è stato sollecito nei confronti dei produttori le ha sorretti con agevolazioni finanziarie li ha aiutati nella ricerca di mercati esteri ha istituito viaggi di studio e di formazione professionale in vari paesi d'europa belgio germania danimarca olanda guidati da specialisti universitari i contadini pugliesi sono diventati modelli produttivi di una nuova stagione dell'agricoltura additati ma non ancora imitati dai loro colleghi della basilicata e della calabria l'azienda di paolo ciccolella si è andata espandendo negli ultimi anni pur restando vi a capo i figli del vecchio ortolano si è dovuto ricorrere a una crescente mano d'opera che oggi tocca le 30 unità in sei ettari di terreno un podere dal quale fino agli anni 60 avrebbe tratto sostentamento un contadino con la propria famiglia oggi ci lavorano circa 40 persone 40 famiglie dunque e tutto questo senza che sia stata tradita la naturale vocazione all'agricoltura di una regione oggi le serre ospitano per lo più rose americane una specie molto resistente dai petali vellutati che in qualche modo riesce a sfatare l'immagine di fragilità della sua antenata quella delicatissima che abbiamo letto nei versi di poliziano i gambi si sono allungati i petali rosso velluto si arrampicano nell'aria e ci ricordano queste giovani generazioni anche meridionali cresciute con gli omogenizzati qui gli omogenizzati sono i concimi la luce e il calore soprattutto il calore dato in dosi regolate per accelerare o frenare la velocità di maturazione dei fiori l'andamento del mercato suggerisce il quantitativo di temperature da offrire alle piante se la richiesta è considerevole è necessario portare i fiori a immediata maturazione in tempi serrati questo avviene in natale o a pasqua dopo una crescita appositamente ritardata si aprono i condotti d'aria calda e uno scirocco umidissimo invade il cielo di vetro della serra allora ecco una schiera di lavoranti penetrare armati di guanti e cesoie l'aria è ancora satura di calori e di umidità è una festa la recisione delle rose tra i lavoranti che cantano una festa che continua tra gli ammazzettatori che contano le rose impacchettano caricano gli autotreni il nostro vero problema dicono oggi questi floricoltori e fa fronte a un mercato estero che chiede un quantitativo di fiori sproporzionato rispetto alle nostre possibilità di produzione e se ne rammaricano si rammaricano soprattutto perché non si riesce a portare a compimento il progetto di cooperazione tra i coltivatori di fiori da recisione per cui si continua a produrre in maniera casuale e anarchica nella concorrenza più spietata e in disaccordo ci allontaniamo dall'azienda del vecchio ortolano con un'immagine sanremese dell'agricoltura della nuova puglia i bagagli ricchi di omaggi floreali ripercorriamo asfalti angusti tra i territori di vari comuni fino alla periferia di ruvo nell'aria pulita si riesce a cogliere oggi persino la sagoma di castello del monte guarda la piana dalla sommità dei colli impassibile spettatore di mutamenti politici e sociali osservatorio privilegiato di scorrerie oggi il suo antico costruttore per aver raccontato come si alleva e si caccia col falcone viene ritenuto grande ecologista difensore amante della natura chissà che direbbe il naturalista federico di svevia passando a cavallo tra questi giardini recintati da siepi di bosso e di tuvie tra foreste esotiche che si affacciano sulle strade entriamo in uno di questi vivai difesi da cancelli elettronici e provvisti di serre nascoste nella vegetazione da esterni fontane con pesci rossi uccelli in un'armonia di forme e di colori sembra tornato qui il gusto per la cultura del giardino come ci raccontano boccaccio e sacchetti insomma mentre la nostra civiltà si affanna ad inquinare e devastare l'ambiente alcuni custodi della natura operano per la creazione di osi ricostruiscono tante piccole versai nelle vecchie contrade dell'ulivo e della roccia calcarea i fratelli pagano di ruvo erano due giovani di bottega quando si accostarono al mondo della floricultura oggi sono riusciti a mettersi in proprio e a creare un piccolo impero della pianta esotica da interno e da giardino ci conducono subito verso le centrali computerizzate loro punto d'orgoglio in realtà sta proprio qui il segno del notevole basso in avanti che ha compiuto la formazione dell'antico contadino oggi non bastano più per lui le regole dettate da virgilio occorre una nuova georgica fatta di nuove osservazioni e regole sulle stagioni e sui tempi e modi di cultura il cervello di queste strutture è il computer magazzino di dati relativi allo stato di salute delle piante medico e infermiere dei singoli reparti perché in realtà queste serre sono grandi cliniche reparti ospedalieri e nidi di infanzia dove le disinfestazioni i pasti e i cambi di vaso o di corsia sono regolati da un unico dotto ma impersonale primario a fianco a lui opera il grande cuore della serra l'impianto dell'iscaldamento che qui è a sansa è stata una scoperta di questi due fratelli se la puglia produce olive si sono detti produrrà anche sansa e fiscoli da destinare alle discariche perché non servirsene come materiali a combustione la fornace a sansa è oggi il loro migliore alleato nel contenimento dei prezzi i tubi si allungano come serpenti boa sotto i tetti spioventi delle serre percorrono foreste tropicali come le bestie mostruose di bulgakov nella serra dalle uova fatali la particolarità del vivaio pagano sta nella cultura di piante tropicali i famigerati tronchetti della felicità diventati per qualche tempo nemici degli appartamenti quando si diffuse il sospetto che nei loro tronchi si nascondessero uova di vedove nere importata dall'america del sud questa vera e propria foresta amazzonica cresce e si moltiplica oggi nei vasi di argilla e in cubetti di lana di pietra le piante sono sistemate su bancali mobili che spostandosi creano corridoi la serra è insomma un prato o un bosco mobile vario pinto su un fondale di verdi ci aggiriamo in quest'aria rarefatta dal caldo umido dalle piazzuole esterne il ronfo del cane dei camion ci riporta al presente partiranno fra poco per l'olanda dove scaricheranno piante esotiche e caricheranno tuberi nel nostro viaggio in una puglia floreale vivaistica prendiamo la litoranea che dall'alto barese porta verso brindisi la costa è tutto un susseguirsi di case bianche basse semi nascoste tra gli oliveti e i fichi d'india è la strada dei viaggiatori ottocenteschi quella utilizzata nel secolo scorso dalla valigia delle indie il convoglio fascinoso che unì per decenni londra a bombay attraverso il basso adriatico lo ionio e il canale di suez oggi di qui continuano a scendere i turisti diretti in grecia giovani biondissimi muniti di chitarre sacchi a pelo i treni tagliano campagne popolate di canne e di acquitrini colline sormontate da paesi di borotalco e scogliere difese da torrioni di avvistamento sono le torri quattro cinquecentesche fatte costruire da aragonesi e spagnoli e che in molti assalti saraceni non sono riusciti a demolire del tutto dopo brindisi un'autostrada di oleandri ci accompagna fino a lecce la lambiamo per raggiungere l'everano qui i fiori si mescolano agli ortaggi in una commissione che raffigura la stessa composizione sociale i raccoglitori sono contemporaneamente datori di lavoro e prestatori di lavoro subordinato come dire servi e padroni i piccoli coltivatori infatti quelli che prevalentemente svolgono attività bracciantile possono benissimo un giorno o l'altro accogliere sull'orticello proprio il loro padrone in qualità di giornaliero a ruoli invertiti una fiera dell'ingaggio dove tutti lavorano i campi di tutti imprenditori e subordinati così che coadiuanti e cointeressati non cessano di essere operai impiegati casalinghe pensionati e studenti un'esplosione di vitalità sociologica funestata soltanto dalla figura sinistra del caporale che ancora usa reclutare tabacchine raccoglitrici di fiori e trasportarle sul campo di lavoro col segreto accordo di una tangente da pagare una vitalità che ha permesso alla puglia produttrice di fiori di impossessarsi di una discreta quota dell'eredità ligure si pensi che nel 1963 la produzione floricola italiana era concentrata in liguria al 70 per cento e che oggi la quota si è ridotta al 25 per cento con un 10 per cento spettante alla puglia dal leverano torniamo a lecce siamo in pieno maggio e la città in festa da molti anni i floricoltori del salento si danno appuntamento in piazza santo ronzo per festeggiare le fortune di un'agricoltura che ha mutato volto in alto il santo li osserva da una colonna questo santo martire stordito dai profumi ed è tutto un altare di colori questa piazza dove confluiscono i prodotti di tre quattrocento serre in un putiferio di anemoni gladioli garofani narcisi gerbere ora non si sentono più cantare le tabacchine si sono profumate passeggiano con le studentesse o fanno capolino dietro siepi di fiori gli stand sono stati sistemati sui marciapiedi tra l'antica pasticceria di alvino e una boutique sotto i portici che circondano la piazza ma gli addobbi floreali attraversano per intera la città fanno risaltare gli intarsi dei marmi e dei tuffi su questi palazzi che sono tutto un ricamo e che nascondono atri ariosi ricchi di palmizi e di edere la coltivazione delle piante qui è diventata occasione di festa ed incontro da bari giungono pullman di vivaisti sono osservatori acquirenti e altri vengono da taranto da matera e da cosenza addetti e curiosi si sono dati appuntamento sotto la mano benedicente di santo ronzo ma non fidano più come i loro progenitori nell'intervento del cielo ora si è aperto un giorno laico e il futuro è nelle mani degli uomini